e quindi tu quando inverti dovrei fare qui qua, qua c'è perchè l'hai bloccato subito mi tocco subito qua e poi la do qua quello dovrei allontanare con il cane si dovrei allontanare con il cane questo è qui, no? tu hai scritto eh esatto io la qua, inverto ma lo tocco subito subito vedi anche se tu provi a dire il braccio eh, comunque vedi mi offri sempre l'angolo qualcosa qua che sta diventando in realtà esatto e ragazzi il bacino ragazzo qua è il mezzo del bacino qua c'è eh esatto qua sto apposta qua non c'è, la piano piano non lavoro qua non c'è ancora eh ma qua si c'è non c'è perché mi si sta non c'è ancora non c'è ancora non c'è ancora non c'è ancora proprio madalea allora eh non c'è ancora perchè mi hai detto il peso tuo sul braccio e per aumentare il peso sul braccio ti alzi al sedere ma qua giù con la spazio faccio questo esatto faccio questo esattamente e tu la anche se non lo scrivi più perchè c'è tutto tutto il peso sul braccio si cioè il discorso diventa isolato il braccio e tu non sali poi decidi come finalizzarlo però tutto parte da isolare il braccio e il bacino si una volta che hai isolato poi ce l'hai le finalizzazioni qua mano a terra subito mano a terra qua no no qua esatto esattamente da qua subito qua su esatto e in parte la posizione subito gira il bacino qui ecco qua ah ma questa mano sulla spalla esatto e ok si è da qua oh piacere che non è si è da qua giri dentro tira il gomito qua c'è l'americana americana sempre uguale sempre uguale eh giro il contrario esatto e vuoi dire piedi più a questo esatto e poi c'è elaborata però se riesci a toccare subito il braccio a terra subito dentro ma no no appena inverti subito direi al sarbaceno se non è così o a mia persona c'è sì qua c'è è arrivato qua e tu la piacere è sentita il tuo ginocchio alto e la 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 lo la l'effetto la 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 Esatto, appena cambi base, che fai questo giro di tornatura. Sì, quello adesso. Non te fai questo appesare. Appena inverti, appena inverti, subito sopra qua. Quando stai ingerci, hai indecidito la gamba. Appena cambi base, subito sopra. Adesso non c'ho la leva. Vedo qua.